Gli ultimi preparativi e verifiche tecniche all'imbrunire sul tetto del palazzo di fronte alla sede del governo provinciale di Bolzano. Per sottolineare l'attenzione della provincia, per le persone affette da autismo e per accendere l'attenzione dei cittadini verso le problematiche che le coinvolgono, Palazzo Wittmann viene illuminato di luce blu. Un'azione simbolica per sensibilizzare la popolazione in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, che sottolinea l'impegno concreto della provincia di Bolzano verso questi suoi cittadini più deboli. Come vedete alle mie spalle il palazzo del governo Alto Attesino si è tinto di blu. Ritengo che sia giusto focalizzare l'attenzione su un tema così importante come quello dell'autismo, un tema che colpisce non solo adulti ma anche ragazzi, bambini, è un disturbo caratteriale, sociale e comunicativo e io credo che una buona politica non debba fare parole, non debba solo sottolineare cose come queste, anche se giuste, ma fare i fatti e noi con il nostro assessorato stiamo facendo i fatti anche a Brunico, stiamo dando vita a un centro per ragazzi che soffrono di questo disturbo e abbiamo dato il via al progetto e alla costruzione di un edificio, si chiama Valdheim, ovvero dal nome Casa nel Bosco, dove i ragazzi possono vivere in un ambiente protetto ma allo stesso tempo la loro libertà. Un genitore di un figlio affetto da autismo ovviamente ha un problema, si chiede quando io verrò a mancare, cosa farà mio figlio? Ecco è importante che la politica sia di aiuto di tutti i cittadini soprattutto delle categorie più deboli e noi facciamo sì con il nostro centro a Brunico, ma ne faremo senz'altro altri, che i ragazzi possano essere tutti dati e protetti anche in mancanza dei genitori. Quando saranno terminati i lavori di adattamento all'edificio Valdheim in Pusteria, il centro sociale Traia di Brunico vi si potrà trasferire, quindi potranno iniziare i lavori di ristrutturazione e l'ampliamento dello stesso centro. Abbiamo accolto subito le indicazioni e le volontà dell'assessore Bessone affinché illuminassimo con il colore blu tutta la facciata o comunque un assetto della facciata del Palazzo 1, la prima volta che lo facciamo in provincia di Bolzano e quindi abbiamo accettato questa sfida e dare un segno per questo tema importante. Faremo tesoro anche per eventuali eventi futuri capendo dopo l'installazione di otto corpi illuminanti a led come mantenere questa struttura o comunque potenziarla per eventi simuli futuri. Anche per l'assessora alle politiche sociali della provincia di Bolzano, Valtraudeg, il sostegno a persone affette da autismo rappresenta un tema di grande importanza.